L'unica cosa rispetto alle cose ampiamente note è che io continuo ad essere rispettoso delle norme e rispettoso delle procedure. La relazione del prefetto che si basa sull'accesso della commissione è un atto presupposto di un atto che deve ancora compiersi, deve ancora realizzarsi, che vede nell'autorità di governo l'unico vero luogo nel quale si possano prendere decisioni di questa portata perché vorrei ricordare che stiamo parlando di un provvedimento che andrebbe ad incidere su uno dei principi cardine, cioè l'elezione di rappresentanze amministrative e che giustamente il legislatore ha messo in capo a una valutazione di alta amministrazione del governo. Per cui mi sembrava doveroso che quella parte, ma non perché ci fossero chissà quali segreti, ma perché, ripeto, bisogna essere rispettoso delle procedure dal momento che il ministro si deve ancora determinare, che il Consiglio dei Ministri si deve esprimere, che eventualmente un Presidente della Repubblica deve mettere una firma sotto un atto che suggella questo ITA, un miserrimo funzionario dello Stato, credo che debba essere rispettoso.